E lascerei la parola proprio a Fabio che le Quadrifoglio le ha viste nascere. Fabio. Buongiorno a tutti e grazie Alessandro. Si, in effetti posso dire di aver visto nascere Quadrifoglio e aver seguito tutte le sue evoluzioni fino a quella che presentiamo oggi. Per realizzarla io e il mio team abbiamo lavorato fin dall'inizio mantenendo come focus la performance e l'attenzione al dettaglio che richiede da da sempre il brand Alforomeo. Quadrifoglio merita un momento di presentazione tutto suo. Da qui la scelta. Certo provarla sarebbe stato l'ideale visto che solo alla guida si possono apprezzare la sua potenza, le sue nuove feature e ovviamente il sound e la velocità a cui vi può portare. Ma aspettando di farvela guidare prova a raccontarvela al meglio. Come molti di voi sapranno Quadrifoglio rappresenta un brand dentro al brand, una famiglia a sé e la sua genesi coincide con quello che viene chiamato Giorgio Project da cui è nata poi anche tutto il resto della gamma Alfa Romeo. Ho vissuto in prima linea l'esperienza di Modena e ho visto nascere da zero una piattaforma a partire da un foglio bianco. Da lì si sono seguiti progetti, intuizioni, prototipi con l'entusiasmo di vedere crescere qualcosa che tutti noi percepivamo essere come qualcosa di unico. Il risultato poi è sotto gli occhi di tutti, due modelli che hanno raggiunto livelli incredibili di performance facendo parlare di Alfa Romeo in tutto il mondo. Ancora oggi si discute di questo progetto a anni di distanza per la particolarità con cui è stato gestito e per i risultati ottenuti tra cui un handling ancora di riferimento. Il Nourvoring poi ha oggettivato questo risultato perché di fatto il cronometro non mente mai. In questo modo Quadrifoglio ha rappresentato l'inizio di un nuovo corso per Alfa Romeo e allo stesso modo il Modellier 20 rappresenta oggi un ulteriore passo avanti, una nuova evoluzione nell'identità di Alfa Romeo. L'emozione della pista viene trasferita alla quotidianità, quindi resta la performance di un'auto supersportiva e il controllo rimane nelle mani di chi guida, ma quando si vuole l'introduzione degli ADAS ad esempio fa sì che anche i piloti con tutto il casco possano decidere di rilassarsi un po' in quelle condizioni di guida che possono essere poco entusiasmanti, quali essere bloccati in mezzo al traffico. E questa evoluzione ha permesso di aprirci a nuovi target. Come abbiamo fatto qualche mese fa con l'introduzione del Modellier 20 sulla gamma normale, vogliamo continuare a rivolgerci agli alfisti più fidelizzati attraverso un prodotto coerente con i valori del marchio, ma che da oggi sia in grado di abbinare per tutti la performance a un piacere di guida quotidiano, sapendo tuttavia che può regalarti emozioni uniche e coinvolgenti ad ogni accelerazione, se lo vuoi. E questo cambiamento di prodotto non poteva poi prescindere da un cambio anche a livello di comunicazione. Sergio, penso che su questo tema tu sia molto più bravo di me a spiegarlo.